Salve carissimi amici tutubi e bentornati nella soffitta di camera mia o benvenuti se è la prima volta che venite a visitarla in questo video parliamo del topolino 3538 con questa copertina che potete intravedere qua ad opera di Corrado Mastantuono per i colori di Mario Perrotta e che ovviamente ti segnala il ritorno di Evaporati con la seconda stagione che andrà a concludere la serie 5 sono le storie contenute all'interno di questo topolino quindi 5 le posizioni da analizzare non perdiamoci in chiacchiere dopo la sigla vediamo che cosa ne penso di questo numero di topolino nello specifico sigla in quinta posizione Pippo Posidippo è la questione Cantina di Giorgio Fontana per i disegni di Lucio Leone e i colori di Diana Laudando storia riempitiva più o meno breve non è proprio brevissimissima che vede Pippo e questo suo parente questo suo cugino Posidippo tutto bello preciso tutto bello regolare tutto bello impostato e quant'altro come abbiamo imparato a conoscerlo fondamentalmente si ritrovano insieme per varie motivazioni in realtà Pippo era andato da una parte il suo cugino lo ha beccato e lo invita ad andare nella cantina non nella soffita nella cantina di Posidippo a mettere a posto un po' di gag e poco più non non è stata una brutta lettura nel senso che comunque l'ho letta ma mi è scivolata via piuttosto in fretta senza dirmi poi troppo come storia in senso stretto finendo per essere una riempitiva che si lascia leggere punto qualche gag carina in qua e là c'è come personaggio Posidippo secondo me andrebbe utilizzato molto di meno perché non è che mi dica particolarmente molto ma al di là del mio gusto personale credo che possa essere sfruttato per alcune storie se diventa un personaggio ricorrente diventa poco interessante quindi vedremo come verrà utilizzato più avanti in seconda posizione sogni d'oro Zio Paperone storia di Marco Bosco per i disegni di Giampaolo Soldati colore di Simone Paoloni lecchine di Simone Paoloni colore di Manuel Giaolli storia del ciclo comics and science potremmo dire dove per l'appunto dopo una spiegazione scientifica di un qualche tipo Paperone parte alla ricerca di un tesoro ovviamente questa ricerca che viene fatta ha senso all'interno della storia in senso stretto ha senso la ricerca scientifica con la missione che Zio Paperone dovrà compiere è bello che ci sia anche un editoriale a tema, un'intervista comunque un editoriale che ci parla un attimo come questa storia sia stata elaborata, quali sono le storie scientifiche alle spalle oltre alla spiegazione magari un po' stringata, sintetica ma comunque efficace per la narrazione della storia stessa ma sarà proprio questa cosa qui che con sentito divulgativo scientifico è bello e interessante mi piace che sul Topolino ci sia ma nelle ultime storie dove c'è questa soluzione qua la cosa viene spietellata un po' all'inizio come se fosse una cosa da dover fare a tutti i costi per il tipo di storia che si vuole fare in uno spiegone che risulta un po' pesante, un po' pedante mentre invece la narrazione che è immediatamente successiva è una storia Disney più o meno naturale, più o meno ordinaria se vogliamo comunque correlata alla ricerca scientifica stessa quindi ci sta, nell'insieme ci sta questa cosa qui è anche una storia abbastanza frizzante e divertente ma all'inizio così talmente tanto spiegone iniziale non me l'ha fatta piacere tantissimo è comunque una buona storia Disneyana in senso stretto in terza posizione il ricomincio dell'imbianchino mascherato di Corrado Mastantuono, testi e disegni i colori sono di Rene Fornari l'imbianchino mascherato era l'alter eco di Bumbunghigno che per l'appunto faceva un po' di missione da supereroe questo ricomincio è nei fatti un reboot è un reboot, è il ricomincio letteralmente è un reboot grande Corrado Mastantuono che ci ha italianizzato il termine reboot con fondamentalmente Paperone e Rockerdac che hanno a che fare con un insieme di questioni riguardanti al mondo delle vernici con una terza persona interessata al mondo delle vernici e quindi succedono cose quindi c'è proprio una vera e propria lotta economica di aziende per il possesso e il controllo delle vernici in quelle di Paperopoli solo che stanno succedendo delle cose strane per cui sarà il buono in bianchino mascherato ad intervenire la storia in realtà è anche carina è abbastanza interessante mi sembra che ci siano molti richiami batmaneschi c'è una forte reference al Batman e anche al Batman della serie animata degli anni 90 almeno questo è quello che ci sento come retrogusto all'interno della storia la storia in realtà un pochettino mi ha annoiato magari sono io che in quel momento non ero nel giusto mood l'ho trovata un filo troppo lunga un filo troppo prolissa già il fatto che c'è un antagonista ci sono Paperone e Rockerdac quindi deve succedere prima una cosa Rockerdac poi una cosa Paperone me l'ha allungata un po' ma nell'insieme mi ha fatto piacere rivedere Bumbunghigno nella sua identità di bianchino mascherato e sono curioso di vedere se verrà ripresa più avanti con altre storie cosa che visto che ci fai un reboot ci starebbe ma soprattutto la riscrittura del personaggio stesso che mi è parso molto diverso rispetto alle sue storie antecedenti quindi una vera e propria rielaborazione anche del personaggio e dell'idea del personaggio stesso portata avanti dall'autore che l'ha creato quindi è tutto molto strano piacevole la lettura interessante come esperimento ma adesso andiamo verso le posizioni calde di questa classifica le prime due storie di questo numero di Topolino in seconda posizione ci inserisco la straniera Paperina e le risoluzioni risolutive di Maya Stroop per i disegni e lechine di Cinzia, Camparino, Pineda e colori dello studio Egmont con il solito generale studio Egmont storia che mi è piaciuta perché vede Paperina come protagonista e ci sta perché non è un personaggio particolarmente utilizzato messa nei panni di Paperino perché Paperino si deve allontanare quindi Paperina per un tot di tempo dovrà fare le cose che dovrebbe fare Paperino ma lo fa nel modo di Paperina e questo mischiarsi di cose crea delle interazioni particolari interessanti, diverse dal solito una Paperina che deve stare con i nipotini una Paperina che deve lucidare le monete di Paperone con il suo ingegno, la sua astuzia, la sua voglia di darsi da fare di dimostrare di essere una Papera che è in grado di risolversi le cose da sola che non ha bisogno di altri personaggi con il risultato di essere una storia se vogliamo un po' femminista sotto un certo punto di vista ma una buona storia una buona storia sotto questo punto di vista bella, interessante, divertente nelle sue interazioni bella una storia che mi è piaciuta e che pertanto merita la seconda posizione sapete che io con le straniere non vado mai particolarmente d'accordo ce ne sono poche che mi piacciono particolarmente questa è una di queste sia per i testi sia per i disegni che comunque sono estremamente gradevoli e piacevoli ma la prima posizione non poteva che essere di Evaporati seconda stagione anzi, gli Evaporati 2 non capisco perché 2 ma va bene di Bruno Enna ai testi Davide Cesarello alle matite che ha continuato fondamentalmente a disegnare questa saga imperterrito e Irene Fornari ai colori storia questa qui che ci deve un attimo non tanto reintrodurre la storia non tanto reintrodurre la saga visto che a questo ci pensa un editoriale posto prima della storia che parla di una prima stagione uscita un anno fa in realtà sono passati una quarantina di settimane che è meno di un anno ma comunque parecchio tempo praticamente 3 stagioni fa fondamentalmente e questo episodio titolato Il vero potere vede un po' le cose scombinarsi vediamo effettivamente come potrebbe essere nata la situazione che si è venuta a creare all'interno degli evaporati abbiamo ormai sappiamo come funziona la nebbia all'interno di questo mondo abbiamo un po' di informazioni fondamentalmente rispetto alla prima stagione quindi la nebbia ci fa meno paura per certi versi rispetto alla prima stagione ma quello che succede quello che non succede quello che i nostri protagonisti dovranno fare per risolvere la situazione rimane ancora un po' oscuro Bruno Enna riesce a mettere dei personaggi interessanti in scena riesce a creare delle belle dinamiche che ti tengono col fiato sospeso dall'inizio alla fine anche in un episodio che dovrebbe essere semplicemente introduttivo introduttivo ovviamente sapendo le basi della prima stagione in questa seconda stagione ci pone delle altre basi ovviamente una missione secondaria che però necessita dell'informazione della prima per poter essere compresa a pieno per una seconda stagione che secondo me inizia piuttosto bene inizia fornendoci dei misteri mettendoci voglia e curiosità nell'andare avanti e auguriamoci che per l'appunto questa curiosità e questa qualità si preservi per l'appunto nel tempo ma di Bruno Enna tenderei a fidarmi e tenderei a fidarmi anche tanto visto quello che ha scritto in passato dove Bruno Enna è fondamentalmente come Francesco Cartibani uno dal quale mi aspetto perlomeno una bella storia cioè non mi aspetto niente di meno che è una bella storia poi magari raggiungiamo lo status quo di capolavoro di sicuro Bruno Enna è uno sperimentatore uno al quale piace osare con i personaggi Disney l'abbiamo visto con Paperino Paperotto l'abbiamo visto con la trilogia gotica e anche qui sta toccando tematiche sta sfiorando tematiche abbastanza pesantucce ma resi in una salsa disneyana che le rende comunque accettabili apprezzabili a tutte quante l'età quindi bene 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 molto bene anche Davide Cesarello alle matite che qui fa un bellissimo lavoro con un po' tutti quanti i personaggi con uno stile assolutamente personale ma che va a richiamare anche i grandi maestri del passato in primis se vogliamo anche il buon massimo di vita quindi uno stile però molto pulito molto preciso vedremo come proseguirà questa saga non vedo l'ora di arrivarne alla conclusione perché sono curioso di vedere come si risolveranno e come si sbroglieranno tutte le strame e capire che cosa ci sia effettivamente dietro ma per ora un'ottima prova bene 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 non vedo l'ora che sia settimana prossima per poi continuarne la lettura nonostante alcune mie criticità che ho espresso nel corso di questo video mentre lo leggevo mi sentivo piuttosto soddisfatto un numero di topolino che al netto di qualche nota un pochettino critica è un topolino buono un topolino che risulta molto leggero molto godibile tutta la prima storia che è un po' pesantuccia complice anche tutta la mole di mistero di suspense che evaporati si porta dietro il resto del topolino è una gag comedy fondamentalmente in tutte quante le sue salse infatti ci sono molte storie con i paperi che virano per l'appunto sulla commedia c'è una storia divulgativa quella dei sogni d'oro di Di Paperone le altre sono per lo più commedie che riescono a strappare un sorrisino un sorrisetto magari non dei sorrisoni incredibili però funzionano e soprattutto la straniera risulta bella solida bella compatta molto interessante e carina per le dinamiche diverse che ci propone rispetto agli standard disneyani un topolino che quindi che non mi sento di sconsigliare ma che consiglio soprattutto a chi voglia a chi voglia proseguire la lettura di evaporati che qui per l'appunto ricomincia e ricomincia secondo me alla grandissima speriamo che mantenga un po' fino alla fine ma per l'appunto questo lo scopriremo andando avanti nel corso della lettura e per questo video direi che è tutto ci sentiamo nello spazio dei commenti dove potete dirmi la vostra avete letto questo numero di topolino vi è piaciuto non vi è piaciuto in generale che cosa ne pensate da Francesco dalla soffitta di camera mia è davvero tutto e noi ci vediamo in una prossima video-opinione del canale ciao